Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Una vicenda che ha fatto impazzire per qualche ora le autorità di Minneapolis. In aeroporto una bimba è stata trovata da sola, in lacrime. Le autorità naturalmente hanno pensato che la bimba fosse stata abbandonata per qualche motivo dai genitori per poi scoprire la verità poco dopo. Dopo varie ricerche si è scoperta l'identità della madre, ma ad oggi non è ancora chiaro come la piccola possa essersi ritrovata sola in un aeroporto, visto che aveva solo dieci mesi. L'allerta era scattata di domenica quando una donna ha segnalato la presenza della piccola alle autorità. Sembra sia da sola, non c'è nessun adulto intorno a lei, dice la donna accortasi del problema. Si scoprirà poi che la madre, negli stessi istanti, stava denunciando alle autorità la scomparsa della sua bimba nell'aeroporto. Incrociando le due segnalazioni è stato possibile per le autorità far ricongiungere le due. Non si sa come la donna possa aver perso la bambina. Gli agenti si sono comunque assicurati che fosse in buone condizioni di salute e l'hanno poi fatta ricongiungere alla madre. Le due, che si crede siano arrivate in aeroporto con un treno, si sono ricongiunte dopo poche ore grazie alle decine di segnalazioni fatte dai passanti. Pare che la mamma sia stata trovata nel pieno di una crisi di panico, spaventata dall'idea che potesse essere accaduto qualcosa di grave alla sua bambina. Ora entrambi stanno bene. Il fatto si è verificato il 25 agosto 2022. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.